Ilari Blasi e Bastian Müller sono volati in Sudafrica, a Cape Town, alla conduttrice ha postato sui social network alcune immagini meravigliose del suo viaggio, tra cui la famosa Simonstown, dove ha potuto ammirare la colonia di pinguini dai piedi neri. Mentre in tribunale va avanti la battaglia legale contro l'ex marito Francesco Totti, la 42enne si distrae viaggiando insieme all'imprenditore tedesco con cui fa coppia da oltre un anno. Grazie a tutti!